Già? Stai? Fabio, come stai? Pensavi che potevi ganare oggi o è stata una sorpresa? No, con tutti i campioni che ci sono qua, insomma, già essere lì gli ultimi chilometri in salita per me è una grossa soddisfazione. Ho provato a due chilometri, poi a un chilometro e mezzo e sono riuscito ad andare via e sono contentissimo. Pensi battagliare per la maglia rossa o solo per stare nel top ten? Di questa volta. Io vedo giorno per giorno come starò, piano piano, insomma, vedremo cosa potremmo fare. Ci sono ancora dieci tappe, piano piano. Grazie.